Siete drogati? Siete drogati? Siete drogati? Siete drogati? Siete drogati? Siete drogati? Allora, oggi noi siamo venuti qua Nel tenito una collana bruttissima e io fa la campaniera più brutta che ho trovato nel mio armadio e volevamo ripartare di questo non è un live e noi siamo sempre amici in size e quindi cantiamo solo le cazzoni e qual'è la differenza? Che dopo facciamo le foto con tutti? Fagliupi il console fate un cazzo di guardare a quel fagliupi mi facciamo vicenda, guarda mazzo ai mani su, 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 su La prima volta che ti ho visto in quel locale con i navi giornasera Così bella che guardarti da lontano non sembra la vigliera che stardo con i tocchi io giorda con i due ero ho sempre piacchi su di te ma nascosti dalla visiera io faccio sostenuta c'è non chi mi lo saluto ho una sigaretta in bocca perché fa uomo vissuto ti chiedo che ore suona mentre tu guardi il quattro e ho con sotto le mie sceglie un'anore preoccupante e penso che devo comprarmi un uomo di odorate mi dai pane un listino prezzi fresco di stampante non sono molto esperto ma il mio sole è stato ho capito che non si trattavano benvenuto al ristorante tutti ci vanno solo tre tasto ma c'è un'anore non ci riesco una volta al giorno lucido la meretta quando non so cosa fai incendi una camionetta ogni rapper mi rispetto perché arrivo dalla strada se non pronuncio voglio rimorcare poi non so ma nei viti sono dei famigli di olerno la bariwara è stato più a fondo del test la polizia mi ha detto che è sempre stato di fermo mi chiesa quelle cazzo di mani su faccio brutto faccio brutto come è? faccio brutto ho visto pionare fagli un corso di giardina su faccio brutto come è? faccio brutto faccio brutto faccio brutto poi ho visto pionare su faccio brutto